Ciao tesori e benvenuti o bentornati nel mio mondo! Io sono Angelina Creations ed oggi scopriremo le creazioni di resina che abbiamo realizzato ieri nel video Scleriamo con la resina. Il tema è quello creepy, ho anche colato poi un altro po' di cosine che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi, sono super curiosa tesori a questo giro perché lo sapete, mi sono impegnata tantissimo e quindi spero siano venute bene. Dunque da cosa iniziamo? Io direi di iniziare da funghetti! Questi sono stampi, ve li ricordate, quelli della collezione di Halloween dell'anno scorso che ho disegnato io per Jack Creations? Vediamo un po'. Allora devo ammettere, praticamente questi stampi erano già colorati, li ho trovati nel cassetto e ho detto ma sì dai ci stanno bene. Guardate che carino! Questo è in assoluto il mio preferito della collezione! Eccoli qui, guardate sono bellissimi! Allora questo stampo tra l'altro lo trovate sia in pronta consegna sul sito di ResChimica, altrimenti andate sul sito di Jack Creations e potete utilizzare anche il nostro codice sconto per tutti questi stampini e per tante altre cose che potete mettere nel carrello, che è Tesori 15, vi darà il 15% di sconto su tutto il vostro carrello sul sito di Gea. Allora, scopriamo quest'altro. Qui la resina è un po' morbida perché questa l'ho colata stamattina. Eccoli qua! E appunto mi piaceva tantissimo che fosse uno stampo colorato col camaleon blu e uno con quello diciamo sui toni caldi. Quale vince secondo voi? Molto strano perché di solito mi piace il colore blu ma non lo so, quest'anno sono fissata con questi colori qui. Questo per me vince tutto. Bene dai, abbiamo iniziato bene! Le lune! Le lune! Ci sono un po' di esperimenti da vedere. Qui prima ci ho spennellato. Questa non mi emoziona tanto, forse l'avevamo già fatta così. No. È bella, eh! Venuta bene anche senza bolle, però non lo so. Questa è molto steampunk, c'era un po' d'oro sul pennello. Vediamo queste altre. Guardate che bella questa! Questa l'ho fatta con della retina di scarto che ho utilizzato per la vetrata. Tesori, guardate qua. C'è guarda... No, vabbè, non ce la posso fare. Vediamo questa. Qui invece era solo del viola scuro. Vabbè, nulla... Degno di nota. Queste invece sono doppio strato. Dunque... No! C'è no, no! No, c'è... No, è che... Magare! C'è magare! Parliamo di questa cosa. Che, vedete, non è come l'Angelina Film. Questi glitter sulle lune sono perfette perché danno proprio quell'effetto dei crateri. No, vabbè, non ce la posso fare. E questa ovviamente era uguale. Poi guardate... No! Non ce la posso fare! Cioè, guardate, così sono blu. E poi col sole si illuminano. Il sole, vabbè, ma è la lampada, però... Guarda... No... Vabbè. Io sono già soddisfatta così. Possiamo già chiudere tutto il teatrino e andare a casa. Mi sento carica, mi sento carica. Mettiamole qua così potete godere della loro luce. Dunque, non ci emozioniamo troppo. Vabbè, dopo che mi sono emozionata. Allora, vediamo questa pozione con della resina di scarto. Sarà venuta stavolta. Non ci ho passato lo stuzzicadenti. Infatti no. Questa beccuccia non mi verrà mai. Copiamo i tre calderoni. Allora, calderonciuino numero uno. Eccolo qui. Bellissimo. Bello. Adoro questa cosa del pigmento messo qui sulla pozzoncina. Qui purtroppo è venuta una bollicina. Ma ve l'ho detto nello scleriamo che è un po' difficile. Cioè, dovete andare proprio con lo stuzzicadenti. E deve essere una resina molto, molto, molto liquida. Io ho utilizzato la fast, quindi sì, era liquida. Ah no, io ho utilizzato la glass. Qui. Eh no, ci dovevamo andare con la fast. Ah, guardate questo. Che bello. Mi piace perché è molto sobrio come effetto. Dobbiamo solo farlo venire meglio. Dobbiamo utilizzare la fast qua dentro. E c'è questo verde. Ed ecco qui i tre piccoli calderoni. Sono adorabili. Sono carica, sono carica. Questa qui. Questa è trecina, eh. Ve lo dico. Questa è trecina. E va benissimo così. Ci piace. Ci piace troppo. Voi dovete sapere, perché la dovete sapere questa cosa, che io per questo scopriamo. Li ho quasi finiti questi glit. Avete capito? E non saprei neanche dove reperirli più, perché li ho comprati anni fa. Ma adesso ho contatto Zea Creations. Tazzine? Ma sì, dai. Copriamo le tazzine. Allora, questa l'ho fatta molto easy. Con quel mix, appunto, di viola e questi. No, Zea. Scusatemi. No. L'ho vista dal vivo. No. Ma dal... Allora, non potete capire. Qui, rifinendo i dettagli in oro. Questa, assolutamente, è portachiavi. Perché queste tazzine e portachiavi si sono bellissimi. Poi c'è questa, molto classica, con un chameleon iridescuente. Anche qui ho spennellato dei chameleon a base bianca con resina perlata. E vabbè, cioè, questo è proprio... Avete presente la sobrietà? Ecco. No. Non è questa. È proprio l'opposto. Però bellissima. Che bella. Ve la faccio vedere da vicino. Anche queste le ho disegnate io. Oh, guardate così fa il viola. Aspettate. È così. No, vabbè. Comunque, riflessi viola-giallo. Non so se vi ricordate, ma anche queste le ho disegnate io. E sono fuori da un po' di tempo queste. Dovremmo fare una nuova versione. E poi c'è quest'altra, che è più sull'azzurro-giallo. Vedete? È più azzurrina, visto che c'era il sole. E anche questa molto, molto bella è venuta stra bene senza bolle. Sono venute tutte senza bolle, quindi posso montarle tutte sui portachiavi. Molto contenta di ciò. Cappellini, perché avevo dell'altra resina di scarto. Ho fatto questo, super trasparente. Perché mi piaceva troppo questo pigmento e quindi ho voluto lasciarlo così. Però non lo so. Volevo fare un cappellino da strega buona. Da strega della luce. Oddio, questo lo sapete che non mi ricordo. Non mi ricordo come l'ho fatto. Ma forse è solo resina nera. Ma sì, sì, sì. È solo quella color petrolio. Eccolo qui. Perché è macchiato? No, non ho pulito bene lo stampo. Dai. Ah, ok, si toglie. Questo per i cappelli da strega e i calderoni è perfetto. E ve lo faccio rivedere perché dovrei averlo portato di mano. Sì, il blackish green. O blackish? Penso blackish. Questo stampo è veramente... Ce l'ho da anni, ce l'ho da anni. Ci ho fatto i miei migliori scopriamo con questo stampo. Quindi sì, ammetto di averlo utilizzato anche proprio come portafortuna. No. Allora, ho sbagliato. Perché dovevo mettere di sfondo la resina nera. Invece l'ho messa viola scuro. Però anche così ha un po' il suo perché. Che dite? Vediamo questa piccolina. Che, vabbè, è la stessa. Mi piace però questa... Vedete questi luccichi arancioni rossi. Molto carino. C'è poco contrasto. Sì. Tipo, vedete così, gli occhi si perdono un po'. Questa cosa mi dispiace. Scopriamo la sfera. Iniziano ad avvicinarsi i pezzi forti. Allora, qui alla fine ho seguito il suggerimento di una di voi che mi aveva giustamente detto metti il colore scuro sulla base e poi lo miscoli col trasparente in alto. E così ho fatto. Ho messo il viola sulla base, il trasparente in alto ed eccola qui. Guardate che bella! Aspettate che vi tolgo questo che fa da sfondo scuro. Guardate che carina! Bella, sapete che è venuta proprio bella? Ora, qui dentro, posso colarci altra resina oppure della resina UV. Bella, bella, bella. Mi aspettavo un fail per questa, invece... No. Questo giro sarà difficilissimo scegliere la preferita. Che bello! Sono ben tenta. Questa, invece, è... Praticamente avevo questo stampo imbustato, tesori. Non l'ho mai, mai, mai utilizzato. Ma forse già me l'ha mandato poco tempo fa. E aspettate che è ancora morbida la resina. Non fa niente. No, vabbè. Qua l'ho fatto proprio a mo' di sfera del mago. Sfera da stregone. E anche qui posso metterci la resina UV per... Allora, qua con la resina UV poi si sparaflescia tutto. Cioè, diventa un effetto bellissimo. Molto carina anche questa per delle collane, spillette. Questa è una spilletta, ci sta benissimo. Adesso abbiamo... Vabbè, la Ouija ovviamente la vediamo alla fine. La finestrella, su questa ci spero tanto. Lo sapete quanto impegno ci ho messo per questa finestrella. Ed è per colpa sua che quei glitter sono quasi finiti. Vediamo. No, voglio scoprire prima il segnalibro. Su quella ci spero troppo. Devo caricarla ancora di energie positive. Invece il segnalibro, lo sapete, secondo me è un po' fail. Glutore. Vabbè, è un po' fail. Wow, scusa! Oh, cielo! No! Raga, ma quanto è bello! Ma è incredibile, questa farfalla sembra vera. Cioè, vedete quanto è bello fare il doppio strato? Perché non so se lo notate voi dalla videocamera, ma dà un effetto 3D, cioè come se la farfalla fosse davvero al di sopra del cielo in cui sta volando. Unica nota negativa, ma in realtà dal vivo si vede, si sono persi un po' i fiorellini viola. Ok, chissà quindi cos'è successo qui. Cos'è successo? Che non si vedranno i fiori lilla. Oh, aspettate, ci siamo dimenticati, la strega. Oddio. C'è qualcuno che sta morendo per vedere la finestra? Lo so. Lo so. Da youtuber non dovrei dirlo, ma puoi sempre passare avanti. Allora. Trescina. Questa forse è un po' troppo trescina. Perché si vede, essendo piatto, si vede troppo l'effetto di stiposi. Non lo so. Non lo so, non mi comincia. Ok. È giunto il momento. È giunto il momento. Siamo pronti. Non mi deludere, non mi deludere, non mi deludere. È un spettacolo. No, vabbè, no, scusate, no. Se lo mettete mi piace, adesso io non so davvero poi cosa fare. È perfetta. È perfetta o non è perfetta? È perfetta. Cioè, me la sto cantando da sola o è così? A parte che questo sta un po' stupendo. Ma è bellissima. Che bello. Perché guardate, la resina è trasparente nel doppio strato. E quindi... Guardatelo! No, vabbè. No, basta. Ha vinto. Ha vinto tutto. Allora, vorrei dire... Adesso, anche se viene male questo, non ce la prendiamo. Però non sarebbe vero. Quindi, vediamo. Dai, raga, mi è venuto bene. Bene, dai, sono venute bene tante cose. Perché proprio tu? No? Che ansia! Che ansia! Ok, togliamo questi. Togliamo prima questi. Non passate avanti. Non andate avanti. Dovete... Dovete mantenere la suspense con me. Aspettate. Aspettate. Ma lo faccio vedere. Aspettate un po' di pazienza. Aspettate. Ok. Siamo pronti. Oddio, incontro la luce. Già si vede qualcosa. Ciao, pronti. Io vado, eh. Io vado. La farfalla è un po' decentrata. Però è bello. Ghià! Ghià! Guardate, con le pagliuzze viola. Scusate, ma la pianta... Nooo! Wow, che peccato. La pianta non si vede proprio. Allora, da vicino i fiori viola sì, si vedono. Anche molto bene. Quella bellissima piantina invece l'abbiamo proprio persa. Che peccato. Che peccato. Però nel complesso mi piace, dai. Mi piace, mi piace. Allora, se mi sentite un po' così è perché mi dispiace tantissimo per quei fiori. Però questo è il pipistrellino, amico, che è uscito a bonus. Eh sì, mi spiace un po' per quei fiori. Vabbè. Ma io sta lampada? Tipo, se la mettessi di là? Ah, scusate. Per tutto il tempo vi ho messo la luce nella posizione sbagliata. Ok, ecco le creazioni come sono davvero. Adesso le rifiniamo, cioè almeno rifiniamo quelle che vanno rifinite. Che accoppiata! Bellissima! Dunque, le cose che preferisco utilizzare per rifinire le creazioni, insomma, quando ci sono i dettagli incisi, sono gli inchiostri in pasta. Principalmente gli Inca Gold. Allora, io vorrei utilizzare questo. Secondo me ci sta bene. Però, non lo so perché, c'ho la voce di Gea nella testa che mi dice che devo utilizzare l'oro. Perché lei nella luna, nel bastoglio luna che facciamo l'altra volta, vi ricordate? Questo qua, vedete, ci ha voluto l'oro. Però non lo so. Ci voleva l'argento, ma è l'unico colore che non ho. Direi, direi di andare con questo. Vedete, io li prendo. Sono inchiostri in pasta. Esistono sia perlati che opachi. Non lo so, sono dei suoi. Vai, vai, vai. Allora, sei più sicura nella vita. Ah, ma non lo so. Secondo me ci sta. Sì, ragazzi, direi che continuo con questo e poi vi faccio vedere. Ok, dunque, dunque. Ho rifinito alla fine solo queste due. Allora, questo è il risultato con il segnalibro. Non sono andata a rifinire la stellina, altrimenti mi avrebbe coperto la farfalla. È bellissimo, però devo avvisarvi di una cosa. Ricordate del trucchetto che abbiamo utilizzato ieri del fermare le creazioni con la resina UV? Ecco, passateci molto più tempo, perché qui, ad esempio, non era ancora ben catalizzata, quindi devo rimettere la resina dentro. Perché appunto poi, quando ci sono andata col pigmento, non era perfettamente, perfettamente catalizzata. Perché appunto sotto avevamo uno stampo non trasparente. Quest'altro, invece, è venuto così. Ho preferito lasciare, com'era, questa sezione, perché tanto onestamente è ben leggibile. E ho decorato solo yes, no e hello. Mi piace tantissimo così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, tesori. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Scegliamo la top 3, stavolta perché solo una no. Quindi, se vi va, fate anche voi la top 3 qui sotto nei commenti. Allora, io al primo posto metto... Cioè, lo so, io devo seguire il cuore. Al primo posto metto questa finestra, perché è bellissima. È proprio bella. Quindi, questo è il primo posto. Al secondo, il vassoietto. E al terzo... Allora, le tazzine mi sono piaciute tantissimo. Io direi a pari merito, al terzo, le tazzine e il segnalibro. Perché mi sono piaciute molto, molto, molto a questo giro. Avevo già fatte così, però non lo so. Questa volta sono venute meglio. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille per avermi seguito fin qui. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Guarda quanto è bella sta finestra. È bellissima.